Una bomba che contiene 50 tonnellate di gas super esilarante è nascosta da qualche parte a Gotham. Joker è l'unico che sa dove sia localizzata. Inizia il conto alla rovescia! Parcheggiare in questa città è un tormento! Sto' na' ora di dedezza. Tu sei il gioco del pianeta Terno. Sono il Joker della Terra. Questa è bella! Fai ridere i miei guardieri o soffrirai. Quando dici che soffrirò intendi per l'imbarazzo, vero? Non costumo lidare con bruxi. Parla di subestimare. Segretino. Quando i duendini chiedono se assustare, li contano le storie del Batman. Io sono la vendetta. Io sono la notte. Io sono Batman. Barla. Avevi detto di non atteggiarci. Non parleremo di questo. Ma io sono la vendetta. Andiamo via. Io sono la notte. Abbiamo finito. Avanti con lo spettacolo! Sapete che cosa dice un mago a un pescatore? Pesca una carpa! Qualsiasi carpa! Vi do sia da come non importerà di sicuro. Oh già, funzionerà di certo. Va bene. Io cerco rinforzi, non si sa mai. Buona fortuna col piano. Quello era sarcasmo. Non si può mai dire con lui. Oh, granulato. Vai querere di che? Sto risolvendo cose più importanti. Chocolati. Ecco perché mi piace lavorare da solo. Qualche volta. Mi piace lavorare da solo qualche volta. Hai fatto un ottimo lavoro. Lui ha detto ottimo lavoro. Non gliel'ho mai sentito dire prima d'ora. E gli ho salvato la vita due volte. Mi stai prendendo in giro. Ti va a un caffè? No! Non fare così. Ho pensato che ti andassi a un caffè. È buonissimo. Perché mi stai mostrando i denti? Che cosa vuoi fare? Vorrai bello quel caffè quando avrò finito con te. Una ciambella? Tienila lontano da me. È avvelenata, vero? È al cioccolato. Un alieno si reca dal dottore con un'anatra sulla testa. Il dottore dice posso aiutarla e l'anatra mi tolga l'alieno dal sederino. Ehi, gente, sapete come si chiamano i gadget di Batman? Cioè i Batarang, le Batmobili, i Batsegnali. Cosa dimentico? Il Bat-ello. E perché i supereroi hanno nomi strani? Voglio dire Superman, Wonder Woman. Eppure io non mi faccio chiamare Wonderful Joker. È troppo tardi. Posso minimizzare il raggio d'esplosione. Se qualcuno di voi volesse l'autografo, mi trova nel mio camerino. Io non mi faccio chiamare il raggio d'esplosione.